Musica 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 non si capisci ma non sono capace e siete ben uè uè ma ti apri il poni e ti sono capace ma siete ma siete mori a far come andarsi di sui muri ooo ora E quindi, escele l'inferma di vicino, occorre. Inizia. Voi a perdere il non esce, ossia. No, non il non è giù, non è giù. Non si è giù, non è giù, non è giù. Grazie per la visione!